Il 29 giugno 2022, ore 8.05, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5 profondità 10 km in Portogallo, circa 600 km dalla costa. Secondo le informazioni di Ramatte, non si sono registrati danni a cose o persone. Secondo le informazioni di Ramatte, non si sono registrati danni a cose o persone.